Ciao amici, oggi vi presento un'altra opera della collezione degli animali della Sardegna. È il guffo, un meraviglioso rapace notturno. Il corpo di questo animale è massiccio. Il capo è caratterizzato da due grandi occhi frontali con nidide giallo-arancio, sormontati da ciuffi di penne. La colorazione del piumaggio ha diverse tonalità di bruni, bianchi, giallastri e neri. Ho realizzato questo dipinto su una tela 100x80, affascinata e rapita dallo sguardo ipnotico di questo animale. Adesso vi lascio al timelapse dove potrete vedere alcune fasi della lavorazione. Spero che il video vi piaccia. Ciao! 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 Ciao!